Una vera e propria bomba sociale, quella che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Lo stop all'80% delle attività produttive e commerciali da ormai più di 20 giorni ha messo a K.O. i budget di migliaia di famiglie, molte delle quali non hanno più i soldi per fare la spesa, per comprare beni di prima necessità, per mangiare insomma. Ieri sera l'annuncio del Premier Conte di un nuovo decreto per fronteggiare proprio l'emergenza sociale. 400 milioni ai comuni da destinare alle famiglie che attraverso i servizi sociali dovranno poi distribuirli a chi ormai non riesce più neanche a mettere il piatto a tavola. Un ruolo strategico lo avranno pertanto i servizi sociali e per le nostre realtà i piani di zona. AgroSolidale, l'azienda consortile che gestisce il welfare dei comuni di Pagani, Sarno, San Marsano sul Sarno e San Valentino Torio, si è vista costretta a raddoppiare il numero di addetti al call center richieste su richieste negli ultimi giorni di cittadini che oltre ad invocare aiuto vogliono parlare, spiegare la loro condizione mortificante spesso nella quale sono piombati perché si sono ritrovati da un giorno all'altro senza guadagni e senza poter più sbarcare il lunario. Un dramma nel dramma, da un lato la paura del nemico chiamato Covid-19, dall'altra l'impossibilità di un guadagno e dunque di vivere. E nelle nostre realtà si susseguono le iniziative di solidarietà, mentre a Sarno la distribuzione dei pacchi alimentari da parte dell'azienda consortile AgroSolidale già sta avvenendo, da domani sarà operativa anche nelle altre realtà Pagani con 200 pacchi che la protezione civile distribuirà e poi San Marzano e San Valentino. Ma come ci si sta organizzando? Lo abbiamo chiesto al direttore di AgroSolidale, Porfidio Monda. Noi abbiamo ricevuto una serie di richieste, di sossidi di vario tipo e ci siamo resi conto che probabilmente rispetto alla domanda che registravamo una volta stava cambiando la composizione. Tantissime persone che magari svolgevano un lavoro, che hanno svolto un lavoro fino a 20 giorni fa, 25 giorni fa e adesso non lo stanno svolgendo. Da questo lavoro veniva un reddito che adesso non sta arrivando e questo sicuramente creerà un problema e lo creerà quanto più tempo resteremo in una situazione di questo tipo. Cosa si fa rispetto a queste situazioni? Cominciano ad arrivare domande di aiuto che sono diverse rispetto alle domande che avevamo registrato fino ad oggi. Sono persone che non soffruiscono del reddito di cittadinanza perché avevano un'attività fino a poco tempo fa. Ovviamente per adesso noi ci stiamo attrezzando per il sostegno alimentare. Non penso che questo basterà. Penso alle tante situazioni che comporteranno entro fine mese il pagamento di bollette che dovranno essere pagate. Penso a canoni di locazione, pigioni che dovranno essere pagati. È una situazione che è in evoluzione. Dobbiamo cercare di contenere questa situazione sperando che si esca presto dall'emergenza nella quale siamo. Per adesso noi abbiamo garantito la distribuzione dei sussidi nei comuni dove da sempre veniva garantito, penso Sarno, San Marzano in particolare, dove i sussidi alimentari hanno una tradizione di distribuzione da tanto tempo. Abbiamo assicurato attraverso i comuni, ovviamente, in collaborazione con i sindaci e con le amministrazioni locali la consegna e la distribuzione la stiamo facendo attraverso la protezione civile direttamente a domicilio. La stessa cosa inizieremo a fare da domani su Pagani e su San Valentino. Domani ci sarà una prima consegna. Stiamo raccogliendo le domande. posso anticipare che sono molte.